La storia si unisce alla sostenibilità ambientale, al Made in Italy e al chilometro zero, per lo sviluppo del territorio. E questo è il senso del progetto Autoctonie presentato nella sede di Confindustria Chieti-Pescara, sulla filiera della lana e della carne ovina. Tra i membri fondatori e promotori sono le sezioni sistema moda e agroalimentare di Confindustria Chieti-Pescara. Come mai una filiera che storicamente nel tempo è stata una dei fiorell'occhiello della regione negli ultimi decenni ha perso completamente competitività fino quasi a sparire dal territorio. Ecco, questa è la domanda che ci siamo fatti. Abbiamo quindi raccolto intorno a Confindustria una serie di partner che potevano portare il loro contributo a questo progetto. Il progetto si sostanzierà in due fasi. La prima è capire, capire come mai è successo questo, se i problemi sono dal lato della filiera commerciale, della qualità del prodotto, della tipologia di prodotto che viene fatta. E poi, sulla base di quello che capiremo, decideremo come poter dare un nuovo impulso, se sarà possibile farlo, a questa filiera per il futuro. Il progetto Autotonia nasce dal concetto di sostenibilità ambientale, ma non solo. Sostenibilità come voce del verbo sostenere il territorio, le imprese, l'economia locale. Essenzialmente la possibilità di innovare la presenza del parco sul proprio territorio, guardando a muove realtà e non fuggendo dalla necessità di tutela dei nostri allevatori e della nostra zootecnia, dando un futuro a un'area interna e a una marginalità economica che non può essere più tale. Quello che era un costo, oggi diventa una risorsa, un brand di comunicazione e un rilancio territoriale importante per le aree interne. Grazie.